TURNOS E DICIONAN ORIGINANDO FUOR DI E BASE PRINCIPAL DI CANAL SVA ACHI NA CARACAS BAI NA YANWE BIBU DI CELUNA PA GIA BIARNE DI GESUN PA GESDOS E CORDA CU NA YOUTUBE PO SIGI SAQUITA ATTRAVÈS D' INTERNET E NANAN CU CHE SIGI RIPITICION DI E PROGRAMA QUI UN FOTRO PROGRAMA QUARTA SEMANA PASSA DOS LUNA PASSA PERO DI TUR MANERA DANKI NATURES NAN CU SEMPER A SintonIZA UM PROGRAMA CU YA DURANTE UNLTIMOS SEIS ANHA E ALGO TADEN AIRE CU TANTO PERO TANTO PROGRAMA ATTRAVENTE CU NOS RENDERAN A DISFRUTAR COBRIANDO PRACTICAMENTE TERRITÓRIO DI MUNDO COMPLETO TAMBE FOR DI TUR ESQUINA FOR DI TUR ANGULO PA MANTENEBUS SEMPER BOM E TAMBE MIHO INFORMAR DANKI PA E TEMPO CU BOTATUMA PA SintonIZA DISFRUTAR E GOZA CADA UN DI NOS PROGRAMA NAN NOSTA COMISÁ MESORA TAMBE CU EDI DOZI ULTIMA PARTE DI E PROGRAMA PA O EDIA 22 NA MÉRICO CAMINDA IMPORTANTISIMO A URAGITA E OLOGI CLOCK IS TICKING SE TENIFICA CU LOGI DA BATI ANTO CADA MINUTO CADA RATO CU PASSA TA IMPORTANTISIMO PASO AINDA QUIZÁS LO POR LOGRA SACA UM UNAF MÁS PERSONA CU LO POR A SOBREBII E UN TERREMOTO PERO DEVASTADO CU A DESTRUÍ UN CANTIDATA DI LUGAN MEXICO I AMATA BASTANTE PERSONA AFTER THE FRANTIC CALLS FOR SILENCE RESCUE TEAMS BURROWING DEEPER INTO THIS ELEMENTARY SCHOOL CONFLICTING REPORTS OF WHO MAY BE TRAPPED INSIDE EARLIER RESCUERS SAYING IT WAS CHILDREN TONIGHT THE MEXICAN NAVY SAYS THEY'RE ALL ACCOUNTED FOR BUT THEY ARE PICKING UP SIGNS OF LIFE INSIDE THIS COURTYARD THE CENTER OF THE RESCUE EFFORTS THERE IS A CLEAR SENSE OF URGENCY A RACE AGAINST TIME FOR FIRST RESPONDERS WHO HAVEN'T SLEPT OR EATEN IN DAYS ONE OF THE VOLUNTEERS AN ELECTRICIAN CHRISTIAN GIMENEZ FROM L.A. THE THIRD FLOOR CAME ALL THE WAY TO THE GROUND IT'S REALLY BAD OF HIM IT'S REALLY BAD THIS RESCUE MISSION IS DANGEROUS AS SEARCH TEAMS CRAWL THROUGH SMALL POCKETS WHERE WOODEN SUPPORT BEAMS COULD SNAP AT ANY MOMENT CHILDREN WHO SURVIVED THE QUAKE HAVE COME TO WATCH AS THEIR PARENTS CLING TO HOPE I HAVE NO WORDS FOR THE FAMILY SAYS GABRIELA RODRIGUEZ IT HURTS TO KNOW THEIR PAIN HEARTBREAK IS RATTLING THE REGION BUSINESSES AND COUNTLESS HOMES ARE NOW GONE OVERNIGHT THREE PEOPLE PULLED FROM THE RUBBLE 36 HOURS AFTER THE EARTHQUAKE BUT TEARS STILL FLOOD RESCUE SITES BEATRICE DIAZ HAS BEEN LOOKING FOR HER NEPHEW SINCE TUESDAY FEARS HE IS STILL BURIED ALIVE AT WORK NBC'S RON MOTT TRAVEL TO THE EPICENTER 75 MILES FROM MEXICO CITY THE DAMAGE IS SIGNIFICANT EVERYTHING FROM THIS 300 YEAR OLD CHURCH TO MORE THAN 2,000 HOMES DAMAGED OR DESTROYED EVEN A CRUCIAL ROADWAY IN AND OUT OF TOWN ONE BUSINESSMAN SAYS IT WILL TAKE DECADES TO REBUILD THE HEARTBREAK IS WHY THEY NEED HOPE TONIGHT THIS COUNTRY WATCHING MORE THAN JUST A RESCUE THIS IS A FIGHT FOR SERVANT. THIS IS A LUCHA TENAS. THIS IS A LUCHA TENAS. YESTERDAY FEEDING THAT SOMEBODY SAYS A LUCHA TENAS. LIKE THIS IS — TENAS DE una mangrovese WTI Crue Toil a mantenere algo arriva 50 dollari, la cotizzata finale 50 dollari ma 55 cento, una caída di 14 cento dollari, una mantreci Brand Crue Toil e la cotizzata 56 dollari ma 43 cento e ganasci, un adelanto di circa 14 cento dollari, arriva anche Bota Mira, september, friday the 22nd, aveta dia 22 di september Pasandomi ora tambi, den il siguiente spazio, la che non so frecebo, resumen informativo e notizia di mas importante tambi, den un resumen cortico che pertenece a 22 di september This is AP News Minute President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un have escalated their war of words Trump saying Kim will be tested like never before Kim calling Trump a mentally deranged U.S. dotard And hinting at a frightening new weapon test A big shock for earthquake recovery efforts in Mexico A little girl rescuers had been trying to reach never existed The story of Frida Sofia gripped the country But officials say they have no idea how reports got out with that name The city of London is putting the brakes on Uber Officials say they won't renew the ride-hailing company's license The city argues Uber demonstrates a lack of corporate responsibility And hundreds of people in Taiwan gathered in the shape of a rhinoceros All part of an effort to call attention to the plight of the endangered animals on World Rhino Day I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute I'm Matt Friedman, the Associated Press, with AP News Minute E' la confianza per il nome dei turisti che durante l'ultima decada ha mandato a carga con la Florida Express sia da parte di Holanda, o da parte dell'Europa e in particolare anche da parte del territorio americano. E' la Florida Express. Se vi ricordate, vi passate durante il messaggio che ci sono passate di Pincho Garden. Ci sono passate di prendere qualcosa di nuovo, ci sono passate 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 di sorpresa. Qui ci sono passate di Pincho Garden, un restaurant di steak boutique, un boutique che attende tutto il tipo di carne, combinato con il ristorante. Cambiamo, va per la rotazione mesura, qui ci sono passate di una vista. Passate di Pincho Garden, ci sono passate di spiegare con noi qui, qui nel Caracas Bay, nel Luna Park. Per esempio, è difficile da fare una situazione per offrire, praticamente, una copia di quello che abbiamo in Caracas Bay, però con altre cose adizionali per motivo di un menù ampio, esquisito, unico, un personale amabile, è servicio che è tutto il tempo per uscisa, è speciale, è comina in Caracas Bay. E quindi, è buona per non sapere, questo è il luogo qui sta a raiare fuori di Maintia. Pincho Garden, non è già quello che è stato a raiare fuori di Maintia, ma è Pincho Garden qui sta a raiare fuori di Cascogara, qui sta a raiare fuori di Cascogara, la scuola di Nardorme. Un'unico, 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 di cui è tutto il tempo, è praticamente il giorno. E è il luogo che è stato a raiare, il prossimo giorno, è un'unico, poi è un'unico, Grazie a tutti. 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 a un'infrastructure that was already crumbling. Officials say help is on the way, but a full recovery could take half a year. Which one is going to be worse? The storm or what comes after the storm? After the storm. Terrifying for those standing in line for hours to get gas to power their generator. She said she's scared. She's scared of what the next six months are going to bring. She's a single mother. She's got to take care of her daughter and she doesn't know what's going to happen. Now families across the island trying to prepare for the humid darkness of life off the grid. Gotti Schwartz, NBC News, San Juan, Puerto Rico. She said she's careful, she's careful, she's careful. She's careful, she's careful, she's careful. but she says, hold on, hold on tight. She's got to be strong. And then aiper she's back and that's behind a island that's completely devasted. She's practically destroyed. So we understand that we're actually going to be Voglio stabilire la comunicazione di persona che mi stanno subendo in un luogo di 20 piso per arrivare al più alto possibile per ottenere un certo senale di telefono. Quindi comunicare con i centri di informazione in America per il motivo di che abbiamo tre compagnia che attende il telefono in Puerto Rico e non di tre compagnia di noto operazionale. Non c'è nessuno che ci si chiama landlines, linea e numero di casi completamente fuori di funzione per non fare mesi di assunti di celular, tutto costa destruire, tutto costa quebrare. Non c'è un somministro di corriente, ci si chiama la mano, la giudanza sta trattando poco a poco però è una situazione più desastrosa e più complicata per il portorricchiano e per la maggiori altri luoghi e non generano anche con un oltre organe a passare. In il prossimo reportaggio, come vedete, non ci si chiama leo fuori di Puerto Rico, non ci si chiama la Repubblica Dominicana, ma anche con la parte di Santo Domingo con la reazione di persone qui. Il prossimo reportaggio, come vedete, non ci si chiama la Repubblica e il prossimo reportaggio, come vedete, non ci si chiama la Repubblica e il prossimo reportaggio, come vedete. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.